Ok, oggi dove mi trovo? Insomma, molti di voi mi chiedono, Fabio raccontaci un po', facci un po' vedere e quando posso condivido sempre con voi, con i miei colleghi venditori, i miei colleghi area manager i miei colleghi imprenditori l'importanza di lavorare sulle figure commerciali, sulle figure menageriali che fanno parte della rete vendita, quindi in questo caso i sales manager piuttosto che gli area manager per portare efficacia e risultati in azienda. Oggi mi trovo in Office Depot, poi più avanti ti racconterò in altri video ti racconterò la storia che mi accomuna un po' questa azienda, ma oggi in questo breve video voglio semplicemente dirti questo, che come venditore devi essere sempre preparato verso i tuoi clienti, devi andarli a trovare, devi pianificare con loro un percorso, devi veramente fare un lavoro certosino se vogliamo utilizzare questo termine. E oggi è quello che ho fatto, oggi sono venuto qui dalla mia cliente Office Depot, che tutti noi conosciamo, multinazionale ormai presente sul campo da tantissimi anni e perché sono qui oggi? Perché ho incontrato Maurizio Ferrioli, sales manager, responsabile vendita di Office Depot e anche Antonio Umbro, il presidente, grande persona. E abbiamo parlato di che cosa? Soprattutto con Maurizio e con Enrica, che Enrica è l'HR manager, giusto? Ok, abbiamo parlato di tutto ciò che io farò su questo programma che ho strutturato per loro, per la loro sia forza vendita ma soprattutto per il loro area manager, il loro regional sales manager, per allinearci, per creare insieme un programma che possano coinvolgerli e che sia un qualcosa di entrambi. Ti faccio una domanda, Maurizio, poi semmeno parli un po' anche tu, insomma. Ti faccio una domanda e ti chiedo, non fare il timido, eh? Una domanda e ti chiedo, perché hai scelto me per questo progetto? Avete scelto me per questo progetto? Perché insomma Office Depot è una azienda molto importante, ma soprattutto è anche perché pensi sia importante fare formazione? Perché noi, come te Fabio, pensiamo in Office Depot perché la formazione sia la base di una buona e di una grande rete commerciale, sia agenti, quindi sia venditori, che area manager. E quindi abbiamo pensato di rivolgerci a chi nel settore è lo specialista per eccellente. Mi piace quando mi trovo in aziende come questa, come Office Depot, con Maurizio Ferrioli nel caso specifico, e riusciamo a fare anche questo video di condivisione con tutti voi, ok? Perché la formazione è fondamentale, soprattutto nella rete commerciale, perché, signori, se sei un imprenditore, se sei un area manager, se sei un direttore commerciale, senza la tua forza commerciale tu non va da nessuna parte, la tua azienda non va da nessuna parte. Ciao, da Office Depot è tutto. A Sago. Ciao. Ciao.